Epica Sabrindisi ancora alle prese col Covid e squadra decimata. Molto sicuramente saranno ancora rinviate le gare in programma domenica 2 e mercoledì 5 che i biancazzurri avrebbero dovuto disputare con Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trento. Nel corso della trasmissione Zona 85, il presidente Nando Marino, intervenuto via Skype, oltre a dare per scontato lo spostamento dei due recuperi, ha fatto il punto della situazione in casa New Basket. Oltre a coach Frank Vitucci e agli assistenti Alberto Morea e Mattia Consoli, anche il preparatore atletico Marco Siste e il massaggiatore Rino Longo, lunedì, sono risultati positivi al Covid. Al momento 5 sono i giocatori che si stanno allenando in maniera individuale, Thompson, Bostic, Udom, Willis e Perkins. Il recupero con la Dinamo Sassari si dovrebbe giocare, il condizionale è d'obbligo, martedì 4, ma ovviamente bisognerà verificare quale sarà la condizione fisica degli atleti attualmente positivi. Se tutto procederà in maniera regolare, con il gruppo squadra negativizzato, venerdì 7 potrà essere disputata la sfida esterna con Trento, prima di concludere la regular season, incontrata a Masseriola con la Opegio Metis Varese.